È un grande onore essere qui con il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, grazie per la sua leadership sulla questione della crisi del coronavirus, sulla questione climatica e su molte altre sfide che la nostra comunità globale deve affrontare. Il Presidente Biden rispetta la scienza e comprende l'urgenza, che è essenziale anche per combattere la pandemia del coronavirus. 18 mesi fa, nel marzo del 2020, il mondo assisteva con orrore quanto accadeva in Italia all'inizio dello scoppio della pandemia di Covid in Europa. Preghiamo per ogni vita che è stata persa in ognuna delle nostre nazioni a causa di questo terribile virus e nel farlo siamo uniti non soltanto nel dolore, ma anche nella gratitudine per il coraggio dell'Italia sotto la leadership del Primo Ministro Draghi, il cui esempio ha contribuito a riunire la comunità internazionale intorno ad un'azione forte e coordinata. Grazie Presidente Draghi e sappiamo che a livello globale deve essere fatto ancora molto di più.